L'Ufficio del Commissario della Sanità Calabresa ha approvato il documento di riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19. Si tratta del piano di riorganizzazione del sistema sanitario regionale finalizzato ad attuare in Calabria, il decreto rilancia nella parte relativa alle misure urgenti in materia di salute e affronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche come quella di Covid-19 in corso, rendendo strutturale, si legge nel documento, la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus SARS-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Il piano, adottato con decreto dal Commissario d'Acta della Sanità Calabrese Saverio Cotticelli e sottoscritto dal Subcommissario Maria Crocco, prevede tra i vari interventi l'attivazione negli ospedali calabresi di 134 nuovi posti letto in terapia intensiva per arrivare a un totale di 280 e di 123 nuovi posti letto in area semi-intensiva, la riorganizzazione dei pronto soccorso, l'acquisto di 9 ambulanze Covid e oltre 350 assunzioni a tempo determinato di medici, infermieri e OS. Pandemia più stagnazione uguale incertezza in Calabria, l'emergenza sanitaria che si è abbattuta sul paese ha inferto un ulteriore colpo all'economia della regione, il cui pill che in termini reali risultava in fase pre-Covid ancora inferiore di 14 punti percentuali rispetto ai livelli del 2007, si appresta a subire per l'anno in corso un'ulteriore caduta e quanto emerge dal rapporto annuale stilato dalla filiale della Banca d'Italia presentato a Catanzaro in videoconferenza dalla direttore Sergio Magarelli e dai componenti del nucleo di ricerca dell'istituto coordinati da Giuseppe Albanese, Antonio Covelli e Graziella Mendicino. La velocità di ripartenza è stato spiegato, dipenderà in parte dalla durata dell'epidemia e dell'efficacia delle misure di contrasto dell'emergenza, tuttavia come è accaduto anche dopo le crisi del periodo 2008-2014 vi potrebbero influire negativamente i fattori strutturali che caratterizzano l'economia regionale e ne condizionano soprattutto la produttività e i livelli di investimento. Al momento prevale l'incertezza. Per le aziende operanti in Calabria si prevede una diminuzione del fatturato molto significativa nel primo semestre in ciò riflettendo il forte calo della domanda interna. A pagare di più in questa fase il settore dei servizi privati, trasporti, commercio al dettaglio, non alimentare, comparto alberghiero e della ristorazione che negli ultimi anni aveva sostenuto in misura significativa le dinamiche occupazionali anche attraverso la creazione di nuove imprese. Pesante la ricaduta negativa sull'occupazione. La Calabria ha detto Magarelli ha già pagato un prezzo altissimo, la crisi che ha investito alla nostra realtà non va comunque sprecata anche perché nulla tornerà come prima. Mi sento di dire che questa crisi è costata a tutto il mondo e al nostro paese tantissimo. Non cercare di rimediare e di superare quegli errori e malfunzionamenti che hanno provocato le diseguaglianze e i ritardi che oggi ci affliggono, che tengono un po' fermo lo sviluppo del nostro paese, del meridione e della Calabria che è un po' il sud del sud e sarebbe come tradire le nuove generazioni, tradire i nostri figli, derubare del loro futuro i loro sogni. In Calabria circa un quarto delle imprese è risultato a rischio di illiquidità, un valore superiore alla media nazionale anche per la maggiore presenza di imprese di minore dimensione e quanto emerge dal rapporto sull'economia calabresi di Banca Italia. I valori più elevati si registrano nel terziario 27% in linea con quanto rilevato a livello nazionale, soprattutto nei comparti del commercio e dell'alloggio e della ristorazione. La percentuale delle aziende potenzialmente illiquide cresce sensibilmente all'aumentare della rischiosità. In Calabria tale quota è pari al 34% per le imprese classificate come rischiose sulla base dei rating attribuiti da Cervid Group, valore più che doppio rispetto a quello stimato per le imprese classificate come sicure. Nel 2020 gli effetti connessi all'epidemia da Covid-19, riporta ancora il rapporto, hanno sottoposto le imprese calabresi a uno stress economico e finanziario rilevante. Secondo l'indagine straordinaria della Banca d'Italia, il fatturato è previsto in riduzione nel primo trimestre per la quasi totalità delle imprese, con effetti più intensi per quelle operanti nei settori sospesi dal 26 di marzo. In Calabria ad oggi sono state effettuate 84.222 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 1.165, nessun nuovo caso positivo rispetto a ieri, quelle negative sono 83.057. Ad oggi le persone decedute restano 97. Altre due persone sono risultate positive al coronavirus a palmi, si tratta di due persone entrate in contatto con i due casi precedentemente accertati. I due uomini si trovavano già in regime di isolamento domiciliare e risultano al momento asintomatici a darne l'annuncio lo stesso comune che rinnova l'invito ai propri cittadini a non creare allarmismi, a comportarsi in maniera responsabile utilizzando i dispositivi di protezione personale e a ritenere attendibili le notizie provenienti dalle sole fonti ufficiali, come la pagina Facebook dell'ente, quella del sindaco Giuseppe Erranuccio e quelle diffuse per mezzo dell'app LibraRisk. La giunta regionale riunita a Catanzaro ha approvato una serie di provvedimenti. L'esecutivo ha deciso di anticipare la data di inizio dei saldi estivi 2020 a mercoledì 1 luglio 2020. Con la stessa delibera proposta dal Prigio Presidente Nino Spirli, si stabilisce anche di confermare il termine finale di svolgimento dei saldi estivi fino a martedì 1 settembre 2020. Infine la giunta ha approvato ai sensi della legge regionale numero 19 del 2017 il piano annuale 2020 per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale che definisce gli interventi da attuare con la relativa ripartizione delle risorse finanziarie. Le risorse ammontano 2,745 milioni di euro, di cui 450 mila del bilancio regionale e il resto di fondi PAC 2014-2020. La giunta regionale preseduta da Iole Santelli ha deliberato di affidare l'incarico di dirigente generale del Dipartimento di Segretariato Generale all'Avvocato Maurizio Borgo a comunicare all'ufficio stampa dell'esecutivo. La Regione Calabria punta sulla migliore gestione e conservazione delle risorse biologiche marine e questo è l'obiettivo dichiarato dal Bando Pubblico in via di pubblicazione per la selezione delle domande di sostegno a valere sulla misura protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la pesca FEAMP. Con l'attivazione di questa misura, spiega l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, si intende sostenere le attività di istituti di ricerca e università connesse alla pesca in relazione a siti Natura 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale. Un'iniziativa volta dunque alla sostenibilità ambientale, alla conservazione del patrimonio di biodiversità e dalla tutela degli ecosistemi marini calabresi, con il fine, al tempo stesso, di rendere le attività di pesca più moderne e competitive ed in linea con le disposizioni comunitarie. A pochi giorni dalla firma della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Enac per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, si comunica che a seguito di un accordo raggiunto nella tarda serata di ieri dal Presidente De Felice con i vertici di Alitalia, l'aeroporto Tito Minniti vedrà incrementati i collegamenti su Roma dal prossimo 2 settembre, lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della SACAL. In particolare, si aggiunge, verranno ripristinati i due collegamenti giornaliere con la Capitale, consentendo l'andata e il ritorno nella stessa giornata, sarà mantenuto il collegamento con Milano-Malpensa fino alla riapertura dello scalo di Milano-Linate, pertanto i nuovi voli già acquistabili sul sito della compagnia avranno i seguenti orari, Reggio Roma 6.35, ritorno alle 21.35, restano confermati gli orari già comunicati dal prossimo 1 luglio ed in vendita sul sito www.alitalia.com. E' pari a 937.000 euro la somma destinata alla Calabria nell'ambito dei cantieri della cultura predisposti dal Ministero per il bene e le attività culturali per il turismo. 20 sono gli interventi previsti dal programma e riguardano la manutenzione, il restauro, la messa in sicurezza e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano è frutto del lavoro di programmazione di tutte le articolazioni periferiche del MIBAC e degli istituti ministeriali presenti sul territorio. Per riuscire ad analizzare nel miglior modo possibile tutte le varie sfaccettature, così come merito un settore delicato e importante quale quello della gestione del ciclo dei rifiuti, abbiamo chiesto ufficialmente all'assessore De Caprio, all'assessore Gallo e dalla Presidente Santelli la costituzione di un tavolo tecnico di concertazione che diventi uno strumento propositivo affinché si superino determinati modus operandi che hanno contraddistinto le passate amministrazioni. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali della Lega Tilde Minasi, Filippo Mancuso, Pietro Molinaro e Pietro Orrasso. Gran parte del territorio calabrese spiegano sta vivendo una grave criticità sul fronte rifiuti, è imprescindibile quindi che in questa fase siano perseguite tutte le soluzioni ed utilizzati tutti i mezzi attualmente a disposizione affinché venga superato un'emergenza che incide inevitabilmente sullo quotidiano di tante comunità anche per diverse inadempienze causate dall'inerzia di alcune amministrazioni locali che stanno ricercando vie di uscita a scapito di aree che andrebbero invece preservate. L'emergenza rifiuti ci travolgerà, non riusciamo a progettare il futuro anche per colpa di una burocrazia troppo lenta rispetto all'emergenza in corso. Senza competenze, supporto finanziario e poteri in ordine alla gestione degli impianti pubblici, l'ATO rischia di essere una scatola vuota. E' quanto affermato il lesineco di Rende, Marcello Manna, che ha rassegnato le dimissioni da Presidente dell'Ambito Territoriale Ottimale, Ato Cosenza. Manna ricopriva l'incarico dal 5 settembre 2018. Discarica di Campolescia a Castrovillari interdetta ai tecnici della regione Calabria. I tecnici avrebbero dovuto riaprirla come da ordinanza regionale, ma diversi cittadini ed agricoltori alla testa dei quali c'è il sindaco Mimolo Polito e anche i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, hanno impedito ai tecnici di entrare nella struttura che dovrebbe ricevere i rifiuti delle province di Vibo Valencia e Reggio Calabria. Gli abitanti di Castrovilla li lamentano che questa struttura insiste in un'area a vocazione agroalimentare e annunciano azioni legali, ma anche la regione Calabria potrebbe rivolgersi alla magistratura per il blocco causato ai lavori di riapertura della discarica, ritenuto indispensabile in questo momento di emergenza. Una banda del buco dedita a furti sistematici e professionali in abitazioni, esercizi commerciali e aziende nella piana di Gioia Tauro è stata sgominata dai carabinieri della compagnia di Tauria Nova con sette arresti, due ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza delle GIP su richiesta della procura di Palmi, diretta da Ottavio Sferlazza. L'indagine denominata banda del buco per l'abitudine di praticare fori nelle pareti è stata avviata dai carabinieri a fine 2017 dopo una serie di furti commessi a Tauria Nova, Città Nova e Polistena. Gli investigatori hanno individuato un comune modus operandi che ha fatto ipotizzare l'esistenza di una banda e hanno collegato gli indagati anche a furti pregressi con indagini destinate all'archiviazione rilette alla luce dei nuovi elementi. Le accuse queste sono associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, furto aggravato, ricettazione, porto illegale di armi e violazione di domicilio. Secondo le indagini gli indagati erano in contatto con esponenti dell'Andrangheta. Il comune di Vibo Valenza sarà parte civile al processo contro i presunti di vertice gregari del suo delizio di Episcopi Sani coinvolti nell'inchiesta denominata Rimpiazzo condotta dalle squadre mobile di Vibo Valenza e Catanzaro e coordinata dalla direzione distrittuale antimafia del capoguogo di regione. L'annuncio è arrivato dal comune che evidenzia come il gruppo distrittuale abbia accolto la richiesta avanzata dal legale incaricato dall'ente e fa seguito alla delibera di giunta nella quale si motivava la decisione col fatto che dal capo di imputazione emerge come parecchie attività produttive della città, siano state nel tempo reiteratamente oggetto di atti intimidatori e richieste estorsive da parte degli aderenti al suo delizio criminale. Due persone sono state arrestate in flagranza di reato a Rosarno dagli agenti del commissariato di polizia di Gioia Tauro con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti durante un normale servizio di controllo hanno notato i due intenti a confabulare in una zona della cittadina e si sono avvicinati. Alla vista della volante uno dei due, un ventene di nazionalità maliana, ha tentato di disfarsi di un involucro. Il pacchetto, subito recuperato dagli agenti che nel frattempo avevano fermato i due, è risultato contenere 80 grammi di cannabis. Sottoposto a perquisizione personale, il giovane maliano è stato trovato in possesso di altre sei bustine di cellophane contenenti circa 12 grammi della stessa sostanza stupefacente, suddivisa in più piccole dosi. A causa dell'effetto recessivo indotto dall'emergenza Covid-19, le imprese calabresi prefigurano un brusco peggioramento della congiuntura nel 2020. È quanto emerge dal rapporto di Banca d'Italia sull'economia calabrese. Secondo l'indagine straordinaria sugli effetti economici del coronavirus svolta dalla Banca d'Italia tra la metà di marzo e la metà di maggio, la quasi totalità delle imprese intervistate ha dichiarato di aver registrato contraccolpi per effetto della situazione emergenziale, segnalando un impatto fortemente negativo in termini di fatturato nel primo semestre, che è stimabile mediamente in un calo del 30% rispetto al periodo corrispondente del 2019. E sui dati economici calabresi del report di Banca d'Italia abbiamo sentito ai nostri microfoni il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. Sì, questa sofferenza si era già anticipata qualche mese fa, diciamo che non bastano gli aiuti del governo in questo momento, è stato riaperto un po' tutto, però ancora ci sono difficoltà, non ci sono i turisti che ci aspettavamo, non ci sono le prenotazioni che ci aspettavamo, ma soprattutto anche dal punto di vista commerciale la gente in questo momento ancora non ha superato dal punto di vista psicologico il fatto di poter andare nuovamente ai ristoranti, andare a comprare, nei centri commerciali, nei negozi e quindi si sta sentendo fortemente. Poi basta vedere anche il mercato delle automobili che è sintomatico di come sta andando il PIL e come sta andando l'industria, quindi c'è un calo forte, speriamo di poter resistere in attesa che venga poi a fine anno scoperto qualche bacino per poter forse definitivamente sconfiggere questa pandemia che ha provocato danni enormi dal punto di vista economico-finanziale. Non abbandonare guanti e mascherina per strada, smaltiscili correttamente utilizzando il contenitore. E' questo il monito lanciato durante la conferenza stampa di presentazione del progetto informativa sul corretto smaltimento di guanti e mascherine svoltosi a Catanzaro. Tale progetto nasce dall'idea dell'Ordine dei farmacisti di Catanzaro per sensibilizzare la cittadinanza, oltre che sul corretto uso dei DP, anche sul loro corretto smaltimento attraverso dei punti di raccolta in prossimità di farmacie e parafarmacie dai territori interessati. Collaborano attivamente all'iniziativa patrocinata dall'amministrazione provinciale e i comuni capofila del progetto, ovvero Catanzaro, la Mezzia Terme, Soverato e Chiaravalle, oltre a Lega Ambiente e la Fondazione Il Caduceo. Presidente Corapi, questa è un'iniziativa di sensibilizzazione per il corretto smaltimento di mascherine, guanti. Vogliamo spiegare ai telespettatori di RTC qual è il corretto smaltimento di questi dispositivi? Sia guanti che mascherine sono senz'altro veicoli di agenti patogeni. Il fatto stesso che trattengono tutto l'essudato che viene eliminato attraverso le vie respiratorie, evidentemente si eliminano anche sostanze altamente inquinanti e i guanti che vengono a contatto con tutte le superfici, essendo lisci, dove tutti i tipi di virus si trovano facile adesione, sono molto inquinanti e provocano molto tipo di infezioni. Il senso di questa manifestazione è quello di educare la cittadinanza alla civiltà, cioè di non abbandonare mascherine e guanti per strade, ma di porle in appositi contenitori. Il Comune di Lamezia nel giro di un mese e mezzo circa è passato dal 33% al 55% di percentuale di popolazione che fa la raccolta differenziata, pertanto non potevamo non aderire a questa magnifica iniziativa. Appena sono stato contattato l'ho trasmessa agli altri membri della Giunta e dal Sindaco e c'è stata naturalmente condivisione totale. È un'iniziativa assolutamente importante che va nel senso del controllo in generale dei nostri rifiuti e soprattutto di questi rifiuti che potrebbero essere più importanti e più difficili da smaltire anche qualora qualcuno dovesse infettarli, per cui non abbiamo avuto assolutamente alcuna esitazione. Siamo a disposizione e naturalmente aderiremo a queste e ad altre iniziative del genere. Questi presidi stanno diventando parte della nostra vita, quindi le mascherine, i guanti, per chi ne ha bisogno, i camici protettivi a seconda delle varie professioni, delle varie attività che si fanno. Quindi questi prodotti devono essere, sono delle cose forse nuove per tante persone, fino adesso non avevamo questo problema, sono dei prodotti che devono essere smaltiti in maniera corretta, perché essendo degli strumenti protettivi, possono essere a loro volta inquinati. La Presidente del Centro Calabrese di Solidarità di Catanzaro, Isolina Mantelli, ha ringraziato il sindaco Abramo per la tempestività e la sensibilità dimostrata nel rispondere prontamente all'esigenza di sicurezza della sede di Via Fontana Vecchia, resasi pressante dai recenti e ben noti avvenimenti. È un momento molto difficile per il centro, ha detto Mantelli, ma crediamo che in questi momenti si misura il grado di solidarietà e vicinanza delle istituzioni. Grazie all'intervento, in tempi molto brevi, è stato possibile dotare il settore prevenzione del centro di un sistema di videosorveglianza che ha permesso di identificare i responsabili degli atti vandalici degli ultimi giorni e recuperare la normale attività nella sede più antica. In merito abbiamo raccolto le dichiarazioni proprio del sindaco Abramo. Diciamo che c'è stato questo caso, non bisogna fare tutto il buon fascio, è capitato questi ragazzi magari per gioco, saranno entrati per rompere qualche vetro, però onestamente non me la sento di dire che c'è un rischio a Catanzaro da questo punto di vista. Comunque abbiamo messo le telecamere, oggi è sotto controllo, anticipo che fra qualche settimana presenteremo quello che era il progetto realizzato dal Comune perché ci sono già 2000 telecamere che funzionano nella città di Catanzaro, quindi sarà la prima città videosorvegliata, quindi a Sant'Elia a Catanzaro lì, abbiamo tutte le vie, tutti i quartieri con il sistema delle telecamere, lo presenteremo con le forze dell'ordine appena arriverà il nuovo prefetto perché è giusto aspettare perché è stata concepita con le forze di polizia, finanziata da una parte del Ministero dell'Interno e dall'altra parte della Regione Calabria e credo che sia un'altra bella cosa che si è fatta per la città di Catanzaro perché avere la videosorveglianza, qualche giorno fa c'è stato un incidente a Santa Maria, abbiamo potuto riprendere l'immagine proprio perché c'era una telecamere e ci mancano solamente alcuni immobili per i quali stiamo facendo un censimento per collegare e completare il sistema. Via Fontana Vecchia lo abbiamo fatto velocemente e abbiamo avuto già i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Torna in campo dopo tre mesi e dopo la tremenda emergenza sanitaria e il campionato italiano di Serie B dopo l'anticipo Spezia-Empoli, sabato pomeriggio saranno in campo anche le squadre calabresi, il Cusenza giocherà al Marulla contro la Virtus Entella mentre il Crotone di Stroppa riceverà all'uscita il Chievo-Verona. In vista della sfida alla Chievo-Verona ascoltiamo il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa. È una bella incognita, sicuramente non abbiamo il termometro della situazione finché poi non ci confronteremo finalmente in una partita vera. Per quanto riguarda il lavoro molto bene, devo dire che la squadra non ha mai mollato anche nel periodo di quarantena, lo ha dimostrato poi sul campo. Abbiamo qualche acciacco ma era preventivabile, speriamo di recuperare poi nella prossima partita qualcuno che sarà assente per piccole cose. Per il resto quelli che ci sono stanno veramente bene. L'aspetto che poi mi fa ancora più piacere è che mentalmente la squadra è concentrata, è attenta, non molla un attimo nell'allenamento e questo è un ottimo segnale. La partita di andata credo che sia stata condizionata in altro modo e lo sappiamo tutti ma il mio pensiero non è lì, non è uno spirito di rivalsa rispetto a quella partita. Noi come si diceva poco tempo fa si inizia un altro campionato, ci sono dieci partite e dobbiamo pensare che stiamo ripartendo tutti da zero senza pensieri alternativi. Quindi bisogna essere pronti soprattutto mentalmente, fisicamente stiamo bene e quindi affronteremo la partita come abbiamo sempre fatto nel miglior modo possibile. Sono partite falsate, perlomeno assomigliano molto a partite amichevoli, voi per il clima, voi per l'atmosfera, voi per l'ambiente, voi per la condizione e quindi soprattutto domani che giocheremo alle sei, tra il caldo e appunto la prima partita che disputeremo dopo qualche mese sarà importantissimo l'equilibrio e lo sbagliare il meno possibile. No purtroppo abbiamo delle defezioni e lo vedrete domani, per quello che riguarda la gestione della partita vedremo. È vero come ho detto che non mi piacciono i cinque cambi, ma come ho detto i cinque cambi in questo momento ci danno la possibilità anche di intercambiare in partita in corso e dare forza fresca appunto a chi magari può avere delle difficoltà fisiche. Ora è anche ufficiale Roberto Occhiuzzi è il nuovo allenatore del Cosenza Calcio. Occhiuzzi nato a Cetraro l'11 novembre del 1979 da calciatore cresciuto nel bivaio rosso-blu e esordito giovanissimo in Serie B nella stagione 1998-99 per poi tornare da protagonista circa 10 anni più tardi con il Cosenza in Serie D e Serie C. È stato tecnico dell'Under 17 dal 2014 al 2016, ricca di successi la sua carriera da allenatore in seconda che lo ha visto parte attiva nella promozione in Serie B del campionato 2017-2018 e nella stagione successiva in cadetteria. Nel corso di questa stagione è stato allenatore in seconda con Piero Braglia prima e Baby Pilon poi il vice di Occhiuzzi sarà Piero Antonio Tortelli che ha indossato la casacca rosso-blu collezionando quasi 100 presenze tra il 1977 e l'81. Farà da collaboratore tecnico Luigi Carnevale che ha allenato il Cosenza Under 16 nelle ultime due stagioni. Intanto già sabato pomeriggio alle ore 18 al Marulla Occhiuzzi guiderà il suo gruppo nella difficilissima, importante e delicata partita interna contro la Virtustentella. Sì, per quanto riguarda l'emozione, l'emozione c'è, sempre un esordio, un esordio con questa maglia mi porta lontano in quel 1999 esordio in B e quindi sì, ma anche se poi alla fine una volta che sei in campo poi hai la testa sul tuo lavoro, quindi metti da parte le tensioni, le ansie, le metti assolutamente da parte, però non si può negare che ci sia un po' di emozione. Il patto è quello di allenarsi giorno dopo giorno nel miglior modo possibile, da parte mia è quello di mettere la squadra nelle migliori condizioni, di mettersi in mostra per potersi guadagnare e sudare questa maglia, questa è la cosa più importante, quindi il mio lavoro è quello di dargli i mezzi giusti per poter poi dare il massimo la domenica e quindi fondamentale questo insomma. Ma l'unica difficoltà è se guardi la classifica, è l'unica difficoltà perché la classifica oggi dice che siamo in una posizione non ottimale, però io guardo dieci gare, guardo dieci gare e per me inizia un campionato nuovo e inizia un campionato e me la gioco con queste dieci squadre da incontrare e quindi parte un campionato contro di loro dobbiamo fare più punti possibili, poi alla fine tireremo le somme. La fortuna di avere 25 giocatori tutti che si stanno giocando una competizione, una sana competizione nel miglior modo possibile, la cosa più bella è arrivare alla scelta e dover scegliere su 25 ragazzi motivati, 25 ragazzi allo stesso livello e poi è giusto che sceglie l'allenatore. Il Dipartimento interregionale della Lega Nazione di Lettanti preso atto dell'interruzione dell'attività deliberata dal Consiglio federale nello scorso 20 maggio e in ottemperanza ai principi dell'articolo 18 del decreto legge dello scorso 19 maggio ha stilato le classifiche finali dei nuovi gironi della serie D 2019-2020 con i relativi verdetti. Per quanto riguarda il girone delle calabresi come è noto promosso il Palermo mentre retrocedono due squadre calabresi ovvero il Corigliano per la peggiore classifica nello scontro diretto e la Palmese oltre ai siciliani del Marzala e ai campani del Sant'Omaso.